Buonasera a tutti. Siamo questa sera qui riuniti per celebrare il rosario, per recitare il rosario davanti alla statua di Nostra Signora della Salute, come stiamo vedendo in questo momento. Durante il mese di maggio normalmente recitavamo i rosari nelle vie, quest'anno non è possibile. Abbiamo pensato di fare in questo modo, sperando che riesca, però al di là della riuscita più o meno positiva è bello il pregare insieme e il volere fare insieme. Grazie a tutti per la partecipazione, per la presenza di questa sera e anche di domani sera. Allora incominciamo insieme con il canto Mentre trascorre la vita. Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai Santa Maria del Cammino sempre sarà con te Vieni, oh Madre, in mezzo a noi Vieni, Maria, qua giù Cammineremo insieme a te Verso la libertà Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia Nel primo mistero glorioso, e siamo nel periodo di Pasqua contempliamo la risurrezione di Gesù Il primo giorno dopo il sabato, di buon mattino si recarono alla tomba, portando con sé gli aromi che avevano preparato Trovarono la pietra rotolata via dal sepolcro ma, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù Mentre erano ancora incerte, ecco due uomini apparire vicino a loro in vesti sfolgoranti Essendosi le donne impaurite e avendo chinato il volto a terra essi dissero loro Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risuscitato Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male Amen Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetta al frutto del seno tuo Gesù Santa Maria, Madre di Dio prega per noi pecatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetta al frutto del seno tuo Gesù Santa Maria, Madre di Dio prega per noi pecatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetta al frutto del seno tuo Gesù Santa Maria, Madre di Dio prega per noi pecatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetta al frutto del seno tuo Gesù Santa Maria, Madre di Dio prega per noi pecatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetta al frutto del seno tuo Gesù Santa Maria, Madre di Dio prega per noi pecatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetta al frutto del seno tuo Gesù Santa Maria, Madre di Dio prega per noi pecatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetta al frutto del seno tuo Gesù Santa Maria, Madre di Dio prega per noi pecatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetta al frutto del seno tuo Gesù Santa Maria, Madre di Dio prega per noi pecatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria, piena di grazia e benedetta al frutto del seno tuo Gesù Santa Maria, Madre di Dio prega per noi pecatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetta al frutto del seno tuo Gesù Santa Maria, Madre di Dio prega per noi pecatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen sia gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli Amen Buongiorno Giovane donna attesa dell'umanità un desiderio D'amore di Dio D'amore e pura libertà il Dio lontano è qui vicino a te voce e silenzio annuncio di novità Ave Maria Ave Maria secondo mistero glorioso meditiamo la Pentecoste Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire si trovavano tutti insieme nello stesso luogo venne all'improvviso dal cielo un rombo come di vento che si abbatte Gagliardo e riempì tutta la casa dove si trovavano apparve l'ororo cinque lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro ed essi furono tutti pieni di spirito santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo spirito dava loro il potere di esprimersi Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra Dacci oggi il nostro pane che rimetti a noi come noi le rimettiamo ai nostri depitori e non abbandonarci alla tentazione ma le rimettiamo amore Ave o Maria piena di grazie al Signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amore Ave o Maria piena di grazie al Signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amore Ave o Maria piena di grazie al Signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amore Ave o Maria piena di grazie del seno tuo Gesù e nel seno tuo Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amore Ave o Maria piena di grazie del Signore con te tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso Ave o Maria piena di grazie del Signore con te tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amore Ave o Maria piena di grazie del Signore con te tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Sia gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amo. Dio d'avrei scelta, qual madre piena di bellezza, ed il suo amore t'avvolgerà con la sua ombra. Ave Maria, Madre di Dio, prego per Dio, venuto sulla terra. Ave Maria, Madre di Dio, prego per Dio, prego per Dio. Terzo mistero. In questo mistero meditiamo Maria, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo o così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prego per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prego per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prego per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prego per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prego per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prego per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prego per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prego per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prego per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prego per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita dolcezza, speranza nostra. Salve Regina, salve Regina, madre di Misericordia, vita dolcezza, speranza nostra. Salve Regina, madre di Misericordia, vita dolcezza, speranza nostra. Avvocata nostra, oggi a noi gli occhi tuoi, mostraci dopo questo esilio, il frutto del tuo seno, Gesù. Io ho messo solo lauree. Salve Regina, madre di Misericordia, o clemente, o via, o dolce Vergine Maria. Salve Regina, salve Regina. Salve Regina, salve Regina. Davanti alla statua che abbiamo in chiesa della Madonna della Salute, c'è lì una preghiera. Una preghiera forse un po' datata, perché si dà del voi a Maria, però al di là della preghiera un po' datata, credo che sia bella. Allora volevo leggerla insieme con voi. Dice così, preghiera a nostra Signora della Salute. O Maria, salute degli infermi, che per essere la Madre del Redentore siete pure la salute spirituale di quanti vi invocano, costituita da Dio ad aiuto e salvezza dei cristiani, vi supplichiamo, perché rivolgiate i vostri sguardi pietosi sopra tutte le nostre infermità di anima e di corpo e alle une e alle altre portate rimedio e salute. Salvate le nostre famiglie, la patria nostra, l'intera società. Salvate la Chiesa e il Sommo Pontefice in special modo. Salvateci dalle persecuzioni degli empi, dalle insidie del nemico infernale. In vita e in morte salvateci tutti che periamo. E fate che, tratti per la vostra misericordia, dal mare burrascoso di questo mondo, giungiamo felici al porto dell'eterna salvezza. Così sia. Nostra Signora della Salute, pregate per noi che ricordiamo a voi. E chiediamo per l'intercessione di Maria la bendizione del Signore. Per le mani di Maria Santissima, per l'intercessione del muriardo che abbiamo lì di fianco alla nostra Madonna, che ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E concludiamo col canto finale, che è il canto nostro che facciamo alla Madonna. Della Salute, o Vergine, dal popolo invocata, vengono i figli memori, al Tempio tuo, Beata, Ascolta il nostro canto, sorreggi il nostro cuore, Oh, rifugio fedele del peccatore, Oh, rifugio fedele del peccatore, Tu sei la madre propria che ai figli resti al canto, Quando il dolore insorge e l'anima impianto, Ascolta il nostro canto, Sorreggi il nostro cuore, Oh, rifugio fedele del peccatore, 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 Bene, grazie a tutti per questa preghiera che abbiamo fatto insieme. Grazie. Grazie.